Benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube. Questo è un nuovo video relativo allo studio della oleodinamica. Vedremo un circuito con due pompe, come possiamo vedere nell'immagine, una ad alta pressione e una a bassa pressione. E parleremo di questo schema, a cosa serve questa configurazione, questo circuitino idraulico, con l'utilizzo di due pompe. Il video sarà tradotto anche in inglese e quindi per quanti non italiani stessero guardando casualmente questo video, possono andare sulle proprietà del video e scegliere i sottotitoli o la lingua inglese. Ma vediamo di cosa si tratta. Ok, un circuito oleodinamico a due o più pompe, quindi a pompe multiple, viene utilizzato per quali motivi? O per ottenere una portata maggiore o per gestire applicazioni che abbiano la necessità di esigenze diverse, sia di pressione che di portata. In questo caso le pompe devono essere configurate, se vogliamo maggiore pressione o maggiore portata, in serie, in parallelo o in serie. Vediamo un attimo le pompe in parallelo. Due o più pompe sono collegate in parallelo, in modo che prelevino il liquido da una sorgente comune, ovviamente dallo stesso serbatoio, e lo inviano verso un'uscita comune. In questo caso le pompe devono avere naturalmente in comune un collettore, in modo che le due portate confluiscono in un unico collettore, un'ecotubazione dimandata, e deve avere anche un'unica tubazione di aspirazione e un bacino di captazione. Questo consente di aumentare la portata complessiva, mantenendo comunque la stessa prevalenza. Le pompe in parallelo vengono utilizzate quando la portata richiesta dall'impianto non può essere fornita da una singola pompa, quindi in pratica vengono sommate le due portate della pompa, ad esempio, che chiamiamo 1, più la portata della pompa 2. Nel caso del collegamento in serie di due o più pompe, sono in pratica collegate in sequenza, con l'uscita di una pompa che alimenta l'ingresso della successiva, e così via. Questo collegamento, questo tipo di disposizione, serve per aumentare la prevalenza totale del sistema, mentre la portata rimane la stessa. Andiamo ad esaminare questo schema, dove devo muovere il mio cilindro a doppio effetto, in questo caso con una valvola di distribuzione 4-3, ho due pompe dallo stesso motore, collegate in parallelo, quella a sinistra è ad alta pressione, quella a destra è a bassa pressione. Vediamo che sia quella ad alta pressione che quella a bassa pressione confluiscono sullo stesso connessione per alimentare la mia valvola che poi sarà utilizzata per muovere il mio cilindro. La pompa ad alta pressione, come possiamo vedere, è collegata con una valvola di massima, impostata ad una certa pressione, per cui, quando la pressione dell'impianto dovesse superare quella di impostazione della valvola di massima, la portata della pompa ad alta pressione sarebbe riportata al serbatoio. Dall'altra parte vediamo che c'è una valvola unidirezionale che permette il passaggio del fluido in questo senso e non permette invece il passaggio del fluido in quest'altro senso, quindi solo la pompa a bassa pressione per alimentare insieme a quella ad alta pressione il nostro cilindro. È collegato con una valvola di scarico collegato ad una certa pressione. A cosa serve questo tipo di collegamento, questo impianto, questo circuitino? Vediamo un po' cosa dire. Allora, questa tecnica circuitale, dove possiamo utilizzarla? Ad esempio, macchine operatrici in cui il carico resistente aumenti sensibilmente durante la corsa di lavoro. Possiamo adottare questa soluzione a due pompe. Una pompa di piccola cilindrata idonea a funzionare ad alte valori di pressione ed una pompa di grande cilindrata utile per funzionare a bassi valori di pressione. Quindi, piccola cilindrata, alta pressione, grande cilindrata, bassa pressione. Fino a che il carico resistente resta basso, anche la pressione nel circuito ovviamente è bassa. Ed entrambe le pompe forniscono le loro portate al cilindro. Il pistone si muove quindi alla velocità che è determinata dalla somma delle portate della portata dell'alta pressione QAP più la portata della bassa pressione BP. Portata utile per un avvicinamento rapido. Quando il carico resistente cresce e aumenta e la pressione supera quella della pressione della pompa a bassa pressione, questa viene messa in scarico perché sente la pressione e viene messa in scarico grazie al pilotaggio prelevato dal ramo principale e tutta la portata, come possiamo vedere dall'immagine, viene portata al serbatoio. Da questo momento in poi l'attuatore riceve la sola portata dell'alta pressione e quindi si muove ad una velocità inferiore per tutto il periodo in cui il carico è rimasto elevato. Quindi questa può essere una soluzione se abbiamo necessità di crearci un impianto di circuitino con queste caratteristiche. Quello che voglio dirvi è che quello che vi sto dicendo non consiglio di adottare questa soluzione o che questa soluzione sia migliore o che questa soluzione sia migliore delle altre. Semplicemente sto spiegando questo circuitino perché ovviamente poi per realizzare questo impianto bisogna conoscere tutte le caratteristiche dell'impianto che devo animare, che devo movimentare, quindi c'è il dimensionamento delle pompe, il motore, le centraline, quanta pressione devo alimentare la valvola di massima, che pressione la valvola di scarico e così via. Quello che stiamo facendo è semplicemente lo studio di questo circuitino. Ma finiamo il nostro esempio con il... Ah, qui ho messo che non è che devo usare forse una valvola di distribuzione manuale 4.3, posso usare anche un'elettrovalvola pilotata e quindi il comando non è più meccanico ma è elettrico. E infine ci troviamo su questa situazione, su questo slide qui. Nell'immagine di destra vediamo quando le due pompe AP e BP sono in funzione, quindi la pressione e ancora il carico resistente non faccia aumentare la pressione nell'impianto al punto tale che la pompa BP deve essere portata allo scarico. Infatti vediamo le linee verdi, l'alta pressione e la bassa pressione alimentano il mio cilindro. Sta sentendo la pressione che comunque non è ancora è ancora inferiore alla pressione di regolazione di questa valvola di scarico. Cosa succede quando l'immagine di destra quando vediamo che la pressione ha superato quella della capacità della pompa a bassa pressione? Vediamo in questa immagine che essendo stata superata la valvola è stata posizionata in modalità scarico quindi la portata della bassa pressione va in scarico mentre quella dell'altra pressione continua a spingere il nostro pistone. Bene, questa era semplicemente la spiegazione di questo circuitino olio-idraulico e l'applicazione di questo circuitino per la finalità che abbiamo visto. Vi ringrazio per la visione del video spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto e volete mandare un messaggio mettere un like vi invito ovviamente a iscrivervi al mio canale dove oltre a questo video trovate moltissimi altri video sull'olio-dinamica ma su moltissimi altri argomenti. Buona serata e buona continuazione con la vostra navigazione su YouTube alla prossima! grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!